buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi il mio nome è rossella rossella pani io sono qui per rispondere alla domanda di una di una ragazza che mi segue su youtube che fa le mie meditazioni che appunto metto su youtube in quanto la maggior parte di tutte le mie meditazioni poi nella parte finale hanno sempre la l'energia del sé superiore che parte dal dodicesimo chakra fino ad attraversare tutti i chakra spirituali chakra del nostro corpo fino ad arrivare l'energia fino a radicarsi al centro fino al centro della madre terra ok lei diciamo mi ha chiesto diciamo mi ha fatto alcune domande sulla sui chakra allora premetto che io non è che sia massima esperta di chakra però so bene il luogo in cui si trovano che dove si trovano in quali sono i punti quindi la domanda esatta è quali sono questi chakra qual è il punto di questi chakra allora io vorrei mettervi a disposizione questo disegno dove viene raffigurata una parte della connessione al sé superiore in quanto io pratico una una tecnica molto potente chiamata connessione al sé superiore dove vengono riattivati alcuni cioè i tutti i meridiani del corpo va bene ne ho già parlato in un altro video i meridiani sono i punti dove scorre l'energia quando l'energia scorre liberamente noi siamo in salute noi siamo pieni di energia di vitalità siamo più intuitivi la nostra energia noi iniziamo a vibrare a una frequenza più elevata e nella parte finale di questa tecnica chiamata connessione al sé superiore abbiamo proprio la la parte in cui l'energia attraverso le nuove frequenze fluisce va bene parte dal dodicesimo chakra fino ad arrivare al centro della madre terra una tecnica molto potente che io vi consiglio se vi sentite chiamati in questo senso potete guardare il video sulla connessione al sé superiore ma adesso torniamo al discorso dei chakra ok è molto importante radicare l'energia fino al centro della madre terra ok quindi vorrei cercare di spiegare un attimino il dodicesimo chakra parte diciamo immaginate che dalla dalla parte della testa circa un metro di altezza noi abbiamo la il sé superiore quindi il dodicesimo chakra corrisponde esattamente all'energia del sé superiore molte anime in questo momento molto importante che stiamo vivendo diciamo sulla terra molte anime stanno iniziando a integrare questa energia superiore essendo molto potente deve integrarsi nel nostro corpo umano ma questo avviene molto in una maniera molto delicata e gentile soprattutto per le anime che si sono già risvegliate in alcuni casi il sé superiore forza un po il risveglio quindi alcune persone hanno questo risveglio molto forte avendo anche esperienza un pochino turbolente ok quindi le meditazioni fatte sull'energia del sé superiore che viene integrata in tutti i nostri corpi assolutamente avviene in maniera gentile quindi vi consiglio assolutamente di praticare le meditazioni che ho messo a disposizione gratuita sul mio sito connessione angelica e punto com o anche su youtube quindi dodicesimo chakra poi ci sono dei chakra intermedi fino ad arrivare al settimo il settimo chakra è anche il chakra della corona quindi dal dodicesimo quindi un metro in alto rispetto al nostro alla sommità della nostra testa abbiamo quindi 11 10 9 8 7 fino ad arrivare al settimo ok perché questi livelli intermedi perché noi siamo esseri multidimensionali quindi non abbiamo solo la dimensione corporea e fisica ma anche nel piano invisibile abbiamo tanti livelli di dimensioni ok livelli e dimensioni siamo fatti in tanti livelli diciamo l'obiettivo sarebbe quello di integrare completamente il sé superiore nel corpo fisico e diventare veri e propri esseri umani e divini insieme questo il progetto dell'essere umano divino che l'arcangelo michele promuove per la venuta della nuova terra che promuove nel senso che ci ci spiega come alcuni esseri umani riusciranno ad arrivare in questo livello nel momento stesso in cui si manifesterà la nuova terra ok quindi abbiamo detto dodicesimo chakra dei chakra intermedi che sono i livelli multidimensionali del nostro essere va bene fino ad arrivare al chakra della corona chakra della corona di cui parlo nella nel come si dice nelle meditazioni e il chakra che ci connette appunto al sé superiore alla coscienza superiore alla coscienza cosmica alla sorgente di amore più elevato una volta che noi siamo connessi al sé superiore abbiamo la connessione col divino con la sorgente di amore più grande quindi questo è un portale di connessione va bene settimo chakra sopra la sommità della testa ok poi abbiamo il sesto chakra ok il sesto chakra ossia il chiamato anche terzo occhio che si trova qui e questo ci dà la visione interiore molti chiaroveggenti riescono a vedere attraverso l'apertura del terzo occhio hanno delle visioni delle immagini hanno la capacità di riconoscere anche eventi futuri diciamo che queste capacità si stanno sviluppando negli esseri umani più più risvegliati alcune persone non sono necessariamente risvegliate ma non hanno delle capacità di chiaroveggenza e quindi è il nostro occhio interiore molte persone chiudendo gli occhi vedono proprio l'occhio e vedono proprio le immagini anche come un film alcune persone invece magari durante momenti intuitivi hanno delle immagini interiori quello che ci dà lì come una macchina fotografica che ci fa la foto interna interiore e questo è il terzo occhio poi il modo in cui si si il modo in cui si esprime il terzo occhio è molto soggettivo da persona a persona è molto meglio risvegliare piano piano questa questa questo risveglio risveglio piuttosto che avere un risveglio improvviso io questo veramente consiglio infatti di portare l'energia del sé giù sempre più giù e radicarla fino al centro della madre terra perché ci sono alcune persone che nel risveglio improvviso dell'anima voluto sempre dal sé superiore per motivi che noi non possiamo giudicare alle volte le persone hanno attivi tutti i chakra superiori e sono completamente sradicati da terra e quindi possono andare in uno stato alterato di coscienza ok quindi questo è il terzo occhio poi abbiamo il chakra della gola la gola la comunicazione vedete anche i colori ok in realtà questo è un colore indaco ok questo è scusate sempre un viola superiore mettiamolo così indaco questo è viola e il chakra della gola è blu azzurro ok abbiamo la comunicazione abbiamo il potere di comunicare la nostra verità che deve essere una verità comunicata dal cuore quindi chi ha questo chakra bloccato la gola non riesce a parlare non riesce a dire la verità si mangia le parole magari sono anche persone che hanno difficoltà ad esprimersi come i balbuzienti o le persone che stanno zitte in silenzio tengono tutto dentro e rischiano di ammalare questo centro e possono venire delle malattie a livelli della tiroide a livelli della gola e invece diciamo che sbloccare questo centro ci consente di parlare di comunicare liberamente ok bene scendendo giù io ve lo sto spiegando velocemente così almeno capite i punti sapete quando fate le mie meditazioni capite che cosa sta avvenendo durante la meditazione poi abbiamo il chakra del cuore che sarebbe qua non è solo il cuore nel punto sinistro ma è l'intero centro l'intero nostro campo energetico intorno a questo punto noi abbiamo il chakra del cuore va bene il cuore è l'armonia il centro è il centro di tutto di tutti i chakra ok arriverà un giorno in cui l'essere umano divino avrà un unico flusso non sarà più suddiviso in tanti strati e livelli ma sarà una cosa sola col sé e noi stiamo integrando questa energia va bene quindi il centro del cuore ci consente la comunicazione da cuore a cuore ci consente di ricevere la guida divina quando quando questo ciò creativo noi sentiamo la nostra voce interiore noi siamo più compassionevoli noi siamo meno nell'ego noi siamo più nell'amore nella gioia il colore il colore verde anche il verde della guarigione quindi quando guariamo il bambino interiore guariamo iniziamo a perdonare noi stessi gli altri genitori tutte le persone che ci hanno fatto del male nella vita ecco quando questo centro è attivo noi siamo nell'amore più grande più nell'amore più incondizionato quindi ripeto finora siamo arrivati al cuore ma è importante riattivare tutti i chakra fino a portare giù l'energia fino a terra perché è importante che la nostra energia sia radicata la terra quindi scendiamo un attimino più giù abbiamo il plesso solare il colore è giallo vedete bene allora il colore giallo si trova sopra l'ombelico ok questo è il plesso solare il centro del nostro potere personale qua è molto importante diciamo quando noi abbiamo attivo questo centro noi abbiamo una grande autostima un'autostima di amore naturalmente siamo sicuri di noi stessi siamo nel nostro pieno potere abbiamo il coraggio e la determinazione di agire nella direzione dei nostri sogni e dei nostri obiettivi siamo più forti più coraggiosi riusciamo ad agire ok mancando quando questo centro non funziona bene non abbiamo forza di agire non abbiamo il potere di azione abbiamo paura abbiamo timore non siamo sicuri di noi stessi ok quindi entra in gioco leggo inferior quando invece questi centri sono tutti attivi noi siamo nel nostro pieno potere ok quindi nella parte umana ma anche nella parte divina ok poi andiamo a scendere sempre più giù abbiamo l'arancia e il secondo chakra va bene quindi abbiamo detto corona settimo terzo occhio sesto gola quinto cuore 4 plesso solare 3 poi abbiamo color arancio e abbiamo il secondo chakra il secondo chakra si trova proprio in prossimità delle ovaie quindi nella parte vicino alla parte sessuale le ovaie per le donne la parte sessuale maschile per gli uomini è praticamente la parte che va a rappresentare proprio l'energia sessuale ricordiamoci che l'energia sessuale una delle energie più potenti nell'universo ma un'energia che deve essere equilibrata e bilanciata quindi quando una persona è fuori fase e anche una persona magari può aver subito violenza può aver vissuto una sessualità sbagliata o avere delle credenze sbagliate sulla sessualità e sul sesso o praticare male il sesso nel senso usare fare sesso per ego e quindi istintivamente senza essere connessi al cuore va bene riportare al centro e all'armonia questo centro energetico è molto importante perché un'energia molto potente nell'energia della nostra creatività ci aiuta a creare ci aiuta veramente un'energia l'energia creativa arriva dal secondo chakra quindi vuole portata questa energia sessuale all'equilibrio ci vuole un lavoro di guarigione come attraverso il perdono ma anche attraverso la pulizia energetica quindi l'ideale sarebbe quello di unire una sessualità sacra e non basata sul semplice istinto sessuale va bene naturalmente questo riguarda le persone che stanno facendo un percorso spirituale di un certo tipo quindi il sesso benissimo sì ma unito all'amore unito al chakra del cuore va bene chi ha subito delle violenze deve fare un percorso di purificazione di perdono e di guarigione e questo centro può essere riabilitato può essere riattivato va bene quindi ripeto queste meditazioni sono molto utili per guarire l'energia del sé superiore dell'arcangelo michele ci guariscono le nuove frequenze di luce ci guariscono ci riportano all'equilibrio poi abbiamo infine il l'ultimo cioè il primo chakra stavamo partendo dall'ultimo verso il primo il primo chakra e si trova proprio alla base il chakra della base vedete ok e questo è la quello che la radice viene chiamato anche chakra della terra ci radica fino al centro della madre terra è molto importante che questo centro sia guarito sia attivo questo ci porta all'azione questo ci porta a manifestare i nostri sogni sulla terra se noi siamo radicati possiamo usare i nostri centri spirituali più elevati ma rimanendo in terra rimanendo radicati alla terra portando contributo nella nostra missione di vita sulla terra molte persone che hanno sempre la testa tra le nuvole sono poco radicati alla terra invece importante portare le energie cosmiche le energie del sé superiore fino al centro della madre terra perché questo ci consente di essere nel nostro pieno potere di agire di manifestare sulla terra perché anche prima ho fatto un video sulla manifestazione va benissimo praticare la riprogrammazione vanno benissimo queste tecniche super potenti ma è importante anche agire agire nel piano della terra quando tutti i centri sono connessi e agiamo noi siamo in grado veramente di realizzare i nostri obiettivi i nostri sogni e essere in perfetta salute fisica mentale emozionale e spirituale poi naturalmente quindi io ho risposto alla domanda della mia della mia follower volevo ricordarvi che ripeto le nelle meditazioni l'energia parte dal dodicesimo chakra e scende sempre più giù fino al centro della madre terra incontrando il cuore della madre terra e vi è un interscambio di luce e di amore tra il cielo e la terra e questo porta armonia ok queste sono delle meditazioni per chi invece fosse interessato a ricevere la connessione al sé superiore non viene fatto solo questo vi ho fatto vedere uno dei tanti fogli ok la vera per la connessione al sé superiore va a riattivare non solo i chakra ok non solo va qual è la parte finale ma si vanno a riattivare i meridiani della testa le linee assiatonali del corpo le linee trasversali le diagonali veramente un lavoro incredibile con le nuove frequenze di luce lavorare con le nuove frequenze di luce nella connessione al sé superiore è un lavoro straordinario che io consiglio soprattutto a chi è nella fase del risveglio chi si vuole riconnettere con la propria anima chi vuole un po accelerare questo ricongiungimento tra il cielo e la terra tra il vero sé superiore e la nostra parte umana chi vuole sentirsi più radicato naturalmente questa è una pratica che può essere fatta solo di persona io attualmente ricevo ad alghero poi nei miei seminari che farò a milano a roma in giro per l'italia e per il mondo potete prenotare la vostra connessione al sé superiore naturalmente se voi siete in una città e siete 45 persone io potrei anche venire nella vostra città ok non c'è nessun problema va bene io spero di essere stata esaustiva cara cara amica che mi ha fatto questa domanda ti saluto ti abbraccio vi abbraccio tutti a presto ciao ciao ciao